allora cosa è successo la volta scorsa semplicemente noi siamo andati verso il Monte Corona dove abbiamo fatto roba del nostro auxilio che è diventato un Arceus e abbiamo avuto poche difficoltà e verso in cima a Monte Corona dove c'è anche il leggendario qualcosa che non mi sarei mai aspettato snizzle letteralmente sarà con noi per l'ultima battaglia e poi di fuori al di fuori sempre se mi ricordo lo faccio volvere ma quello ricordare tipo sì lo faccio ma no quindi qual è il nostro obiettivo quest'oggi magari fai già fare la prima palestra e fare tante evoluzioni nostro obiettivo è quello perché la volta scorsa ne abbiamo fatto solo una va bene va bene va bene iniziamo con un bel child o capo a livelli giusti diciamo che potrebbe andare meglio come potrebbe da coder ostia e dopo una codice questo è troppo bella come codice gravi 53 metto ok ok lo sapevo non so quante cure abbia perché io ho messo anche quello come impostazione ma un bel crit sai che non ci sta male beh flygo ma sai che ci sta un seco cat basta con questa per due la caboglia oggi una cosa che vuoi fare tanto è quello di un madonna e in corso fisico di fai tante evoluzioni perché abbiamo qualcosa tipo due bozze pieni da fare perché in alcuni casi è normale in alcuni casi evoluzioni non le facciamo tipo quelle per amicizia o quelle come niso che si deve chiedere salire di livello alla sera quelli non le facciamo questione chiaramente semplici mai ma cavoli sono sotto livello lato allora non è efficace conto scusami tutti hanno mose conto a ciosi davvero è a buio mi stai dicendo questo beh è il nostro team alla fine è composto da 4 più rossi live che tappos e stanno da dire però qual è il nostro attento adesso se riusciamo anche togliere lo slave ma non credo o sì perché comunque abbiamo di scaccia bruma che non ci sa che potrebbe imparare che inga e poi spacca roccia e scala roccia univi che bello portarlo qua abbastanza semplice da battere questo saio devo assiste me l'ha aspettato diversa e lui ok beh che dire abbiamo due master ball lanciamo il quick ball ci ho provato spike se ti dico di nero master ball ok ok ci sta no vediamo cosa si evolve come snizzle snizzle e vediamo adesso apre a set poche di quella poche dovete tornare in città ok vediamo nel ti non marito acqua bene niente così presto sta lasciando questo incontro un po laggante no no volbit no fa schifo poi cosa lotta terra come un po mail continuo bene adesso tocca a te vediamolo adesso questo mio cos'è cos'è perdum buca mi manco va bene no chiaramente non era già acciaio e dico teniamo l'acciaio buono buono bello vediamo cosa si vuole bello ok adesso sappiamo come è messo questo flygo perché c'è voi by flash te lo insegno così per sport ok finalmente posso vedere questo flygo che mi dava delle erronee quanta vita ghiaccio normale ok adesso capisco perché lo buttavo gioco nelle versa ok spiegato motivi e quindi non lo buttavo gioco le mosse fisiche ok ma è veramente sento e vediamo ambi pom è buono che non l'altro non è buono perché mi tocca già mettono in le box ghiaccio seco e sta qua vediamolo questo qua metagross bellino bellino i meti no allora c'è 75 di hp è buono buio acciaio vabbè facciamo stare tipo boi a te boi a te se è scasso in velocità no dai oddio si è vuole già adesso l'abito questa volta 35 bello flygo bello flyon bellino lo aspettavo molto più tardi vabbè grazie e drago oddio non è così non è neanche così cattivo però neanche ah forse solo di sì non è sì grazie bene affrontiamo l'ultima palestra sì ma non iniziermi così di botto eh forza boi a te e noi eh sono un roll qua ma mi ha fatto tanto male questo mi fa 50 botta ok non è andato giù per fortuna buio stai calmo allora secondo me astuzzi sarà attacco della la carta vincente ok wow wow mi pare che non era per niente fisico io faccio danni con e verso oh merda ah però adesso è una per 20 giusto ok ancora un colpo adesso dovrebbe essere una 60 forse veniamo se fu ok ha messato il colpo va bene oppure avevo attivato l'anno minibust ok 4 lo butto giù beh è partito con il botto il buon uomo ci credo che non avrà più voglia di combattere c'aveva tre bestioni un rege ice che mi ha messo in crisi un attimo e un chrysan voglia il bibale te lo accetto ancora ma sidot no sidot no è un'altra meta bigot e su e su ace allora non posso curarmi però io ti faccio un idro cannone questa mi ha fatto mare poveri flinch ha funzionato il flinch sì guido faste cae 1 bene ehm guai flaryon cacchio c'è quasi flaryon ma te ma te ehm psico è davvero buio terremoto buono sei io che c'è guido e questo è il tuo asso nella manica un fottutissimo guido ma come me l'ha avvertito come la mossa più potente capame è buio acciaio forse ok ottimo e abbiamo vinto abbiamo preso anche l'ultima palestra incredibile e questa volta mi ricordo anche di mettere la medaglia bello ok dm57 cos'è uh bello magico leaf è a 57 porca toia non mi aspettavo il livello 30 questo bene l'evoluzione di shield che cacchio è le uova no aspetta come le uova le uovo le uovo le uovo ghost ma ha mantenuto lo stesso type si clorofilla la sua abilità di principio quindi io dico che lo faccio per conto mio tutto questo tutto questo percorso lo faccio per cavoli miei pertanto io vi saluto vi ringrazio per essere passate qua o per essere massi fino a questo punto e ci vediamo alla prossima